Musica Come vedete ci troviamo nella bellissima cornice di Piazza Grande a Montepulciano perché tornano finalmente i mercatini di Montepulciano e il Natale a Montepulciano anche con la casa di Babbo Natale. Dopo due anni di stop a causa della pandemia finalmente si torna ancora di più l'atmosfera natalizia a Montepulciano con tante luci, tanti prodotti locali ma che provengono anche da fuori e la casa di Babbo Natale per i più piccoli, un intrattenimento per far sognare i bimbi. Come è stata pensata questa edizione 2021 del Natale a Montepulciano? È stata pensata tutti insieme, amministrazione comunale, associazione di Montepulciano e commercianti. Innanzitutto questo è importante dirlo, commercianti del territorio che sono il vero motore dell'iniziativa. Abbiamo pensato di tornare a realizzare in presenza la manifestazione perché crediamo che il segno di ripartenza sia importante soprattutto all'interno delle festività. Come vedete c'è già tanta gente che è venuta a visitare il Natale a Montepulciano e abbiamo pensato di realizzarla in tutta sicurezza soprattutto. Il criterio guida è stata la sicurezza, spazi più ampi, più distanziamento tra le casine, meno casine, da 82 siamo passati a 65, quindi con un distanziamento che garantisce la possibilità ai visitatori di fruire del mercatino in tutta sicurezza. E lo stesso all'interno del castello di Babbo Natale sono stati ridotti gli spazi, allargati gli intrattenimenti, quindi ridotto anche un pochino lo spazio espositivo all'interno della fortezza, quindi anche lì crediamo che rendendo obbligatorio il Green Pass così come da norma si possa visitare in tutta sicurezza tutta la manifestazione. Dopo due anni di Pasa torna il Natale a Montepulciano. Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione? Sicuramente un alto livello qualitativo della manifestazione, dell'evento e probabilmente anche grandi emozioni perché tornare a vivere il Natale, l'atmosfera del Natale, tornare a vivere l'evento Natale a Montepulciano secondo me quest'anno specialmente sarà davvero emozionante. Noi puntiamo tantissimo a questa manifestazione che ormai è diventata veramente una delle manifestazioni e degli eventi più importanti di Montepulciano. L'ho vista praticamente nascere nel 2014 quando nel mio primo anno da assessore, l'ho vista crescere, l'ho vista consolidare, quindi diciamo c'è anche un po' di affetto nei confronti di questo evento che ci ha permesso di anche mantenere un'alta produzione di ricchezza nel nostro territorio in un periodo notoriamente poco vivace di presenze turistiche e invece con questo evento si sono registrati chiaramente importanti presenze e sono convinto che anche quest'anno sarà così. Abbiamo puntato chiaramente anche alla qualità dei prodotti che verranno messi in vendita da parte dei commercianti che hanno preso le casine, questo sarà sicuramente mantenuto anche all'interno del centro storico da vari negozianti. Ci sarà la possibilità di degustare prodotti tipici locali e in particolar modo il nostro prodotto tipico d'eccellenza che è il vino nobile di Montepulciano non solo lungo il centro storico nelle cantine ma anche in due punti importanti che uno sono la fortezza dove sarà chiaramente dove è stato allestito il castello di Babbo Natale ma ci sarà la possibilità di fare degustazioni all'interno dell'Eno di Teca Consortile ma anche nella terrazza panoramica di Vicolo del Leone dove è stato praticamente allestito un punto di degustazione proprio del vino nobile di Montepulciano. Ecco quindi chiaramente si punta all'attenzione all'evento natale però una particolare attenzione viene prestata anche ai nostri prodotti tipici, alle nostre peculiarità e caratteristiche dei nostri territori. Sineco ha fatto un accenno alle presenze in questi giorni, purtroppo stiamo assistendo a un lieve aumento dei contagi. Pensa che questo possa scoraggiare i turisti a arrivare a Montepulciano? Che presenze ci possiamo aspettare per quest'anno? Io credo che le aspettative sono alte. Purtroppo anche nei nostri territori, soprattutto a Montepulciano, nell'ultima settimana si sono registrate delle positività rispetto alle settimane precedenti perché ricordo che fino ai primi di novembre praticamente avevamo due casi. Poi purtroppo nel giro di una settimana abbiamo registrato una ventina di casi. Per fortuna tutti in ottima salute, però è chiaro che questo potrebbe in qualche maniera influenzare negativamente la presenza turistica nei nostri territori. Però credo che poi alla fine i turisti sceglieranno come sempre Montepulciano come meta anche per le vacanze natalizie, anche per passare dei fini di settimana. È stato evidente anche nel corso dell'estate con forti e importanti investimenti da parte dell'amministrazione comunale, non solo per quanto riguarda la destinazione turistica a Montepulciano, ma anche di tutto l'ambito turistico a Val di Chiana Sienese, si sono registrate importanti presenze proprio anche, ripeto, durante tutto l'anno. Quindi credo che anche durante questo periodo natalizio sicuramente si registreranno importanti presenze. Quali prodotti sono stati selezionati per questi mercatini natalizi poliziani? Ma se fate un giro un po' per le bancarelle, sono quest'anno 65 casine quindi sicuramente un'ottima offerta di tanti prodotti, vedrete che c'è un po' di tutto sicuramente prodotti locali, sicuramente prodotti enogastronomici ma anche il nostro artigianato. Quindi una vasta offerta per permettere a tutti di poter acquistare tutti i regali di Natale, sia per grandi che per i più piccoli. Questi mercatini sono riservati a produttori locali o sono anche aperti a produttori che vengono fuori da Montepulciano? No, sono aperti anche a produttori da fuori, vedrete che ci sono sicuramente tanti esercenti del nostro territorio ma anche produttori che vengono da fuori questo per permettere un po' di allargare insomma anche la scelta e l'offerta un po' a tutti i prodotti italiani. Torna finalmente il Natale a Montepulciano, quali sono le sensazioni, le emozioni? Personalmente sono molto positivo, dopo due anni di grande difficoltà adesso stiamo rinascendo proprio e credo che quest'anno, se non succede niente perché purtroppo l'evoluzione non è molto positiva, sia un anno di grande esploiare. Sicuramente ci sarà un grandissimo recupero dal punto di vista economico del lavoro, delle attività e questo lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi. perché dopo il 15 di luglio quando la gente ha potuto tornare in circolazione siamo stati letteralmente invasi e questo ci fa un piacere incredibile perché noi già nel bilancio di provvisione eravamo stati positivi nel dire no. Sicuramente il 21 anche se ci sono delle criticità però sarà un anno positivo e quindi ecco, penso che questi mercatini daranno proprio in là all'inizio dell'anno 2022 e poi comunque è una manifestazione particolarmente importante perché è la più importante dell'Italia centro-meridionale quindi ha anche una risonanza oltre che a livello regionale a livello nazionale e lo vediamo dai turisti che comunque i toscani sono la minima parte quindi vengono molti del nord, del sud e poi abbiamo tanti stranieri perché anche nel mese di novembre dove una settimana fa cioè Montepulciano qualche anno fa non c'era nessuno invece c'è stata una bellissima partecipazione e visite da parte di stranieri, di americani quelli che possono diciamo tornare a volare quando il volo sarà libero Montepulciano prenderà il volo Come sarà la viabilità poliziana in questi giorni che ospiteranno i mercatini natalizi? Buongiorno, solo la parte alta via San Donato diventa un'area pedonale nei giorni di apertura dei mercatini avendo anche portato una modifica al servizio pubblico Pollicino che non transiterà di sopra ma farà solo il giro per via di Collazzi e poi in base all'affluenza dei visitatori decideremo al momento se fermare la viabilità in fondo via dei filosofi con l'aiuto anche dei volontari della misericordia e della protezione civile delle varie associazioni e quindi si cerca di far scorrere al meglio e non creare disagi soprattutto per i residenti ma anche per tutti coloro che si recheranno qui a Montepulciano in questi giorni Bambini buongiorno, buongiorno Natale è vicino mi raccomando cercate di essere buoni e bravi altrimenti sarò costretto a portarvi cipolle, carbone, qualche aglio insomma cercate di essere buoni per avere parecchi doni Grazie! Grazie!